Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, in via Napoli 3, a pochi metri dal ponte di Pietra e dalla struttura del Gambero. Io più volte ho detto che Taranto è una città del terzo mondo e purtroppo non mi sbaglio, perché le immagini che voi vedrete la dicono lunga, sullo stato di abbandono, di degrado assoluto, di assoluta mancanza di condizioni di igiene in cui versano i cittadini di Taranto, in cui versa l'aria in questione. Vedete qui un tombino, da questo tombino fuoriesce acqua di fogna da oltre un anno. Sono state fatte numerosissime segnalazioni, ma ripeto, a distanza di un anno non è cambiato nulla. Vedete il tombino sollevato e vedete tutta l'acqua di fogna che fuoriesce, ma disegna proprio un fiumiciattolo, un fiumiciattolo di schifo. Non venite a dirmi che la faccio tragica o che voglio speculare sul degrado, perché sono i cittadini a chiamarmi, sono i cittadini a rivendicare i propri sacrosanti diritti, perché il cittadino paga le tasse e non sta scritto da nessuna parte che, scusatemi la volgarità, il cittadino debba vivere nella merda, perché di merda si tratta, di fogna si tratta. E che nessuno si scandalizzi se uso un linguaggio un po' violento, poco elegante, perché questa è la realtà. Nessuno si deve scandalizzare. A me piace dire le cose come stanno ed è assurdo che in questa zona debbano vivere persone come se fossimo, chissà, in quale bidonviglie, in quale realtà di terzo mondo appunto. Pensate ai bambini che giocano al pallone, che scendono di casa e si devono trovare tra i liquami, tra i rifiuti. Questa è Taranto. Che piacciono? Allora andiamo a vedere le responsabilità. Perché fuoriesce acqua di fogna? Responsabilità dell'acquedotto? Responsabilità dell'amministrazione comunale? Ma al di là di tutto l'amministrazione deve intervenire, perché quando un amministratore passa e vede uno scempio del genere non può dire no, non è competenza mia. Quell'altro dice no, non è competenza mia e facciamo lo scaricabarile. E' trascorso un anno, signori cari, un anno, un anno purtroppo, in cui la realtà di Taranto, in cui i cittadini, scusatemi la volgarità, si trovano nella merda.